effettivamente adesso abbiamo tre o quattro scoop adesso facciamo un pezzo cantato del professor Oerola Vank questa è una bella canzone, si intitola affacciata al balcone fa parte di un'altra tematica lui ha nel cuore e nella testa l'amore dove è andato il professor Oerola Vank solo che dovete incitarlo con un grosso applauso perché il professor è timido per lui dall'ultimo festival di San Rezzi di Dio del Mento 2 il professor Oerola Vank canta la facciata al balcone cosa fa la facciata al balcone fa parte di un'altra rossa tra i capelli ancora è un'altra rossa, il professor Oerola Vank che ci sono fissuti in cuore come se fanno provare piacere è un'altra rossa di te di te che mi sorrida per dirci che mi ami è fuori mi chiami su Se tu non trovo, mi ha raggiunto un amore, mi scende a cuore un po' per me, no, 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 no. minutes la felicità e non di cosa sei bene con la vita, sono forte, io mi sento tranquillo e non di cosa c'è la volta la giù, amore mio non mi lascio più, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.